vediamo come mettere in funzione una stufa combustibile in questo caso oggi abbiamo una culima 9046 tc ma queste istruzioni che vi darò oggi saranno valide per tutte le stufa combustibile andiamo a vedere allora semplicemente una volta acquistata la stufa e una volta tolta dall'imballo la stufa si presenterà in questo modo avrà un serbatoio al suo interno che viene sfidato in questo caso abbiamo un bel serbatoio di circa 7 litri gli altri nelle altre stufe potranno essere di varie grandezze dei 45 fino ai 7 litri appunto il il tappo può essere rimosso in questo caso semplicemente con i due sganci laterali in molti altri casi abbiamo bisogno di svitarlo ma è un'operazione comunque molto molto semplice utilizzeremo oggi una pompetta a batteria toyotomi che la apriamo proprio in questo momento mettendo due batterie stilo io utilizzo queste compette perché sono molto pratiche e molto veloci va inserita la parte rigida dritta all'interno della tanica in questo caso utilizziamo un combustibile sempre a culima togliamo il sigillo perché la tanica è nuova ok mettiamo vicini la tanica il serbatoio inseriamo la parte rigida all'interno del combustibile e la parte flessibile nel serbatoio l'accendiamo tramite l'interruttore e vediamo che il combustibile comincia a scendere possiamo decidere di riempire lo o anche metterne meno abbiamo comunque sia un indicatore di livello che questo qui che quando il combustibile sarà arrivato all'incirco questa questa altezza qui noi potremmo vedere il riempimento adesso ne mettiamo un quantitativo sufficiente semplicemente per far vedere come funziona l'avviamento facciamo scolare un po il combustibile rimasto nel nel tubo andiamo a mettere il tappo in questo caso ripeto a linguette che si agganciano semplicemente in altri casi si abita basta abitarlo il serbatoio ha un verso di inserimento vediamo che ci prendo subito ovviamente no si inserisce il tappo anche una funzione di valvola quindi quando lo mettiamo all'interno si aprirà automaticamente la valvola e quindi il combustibile passerà per mettere in funzione quindi una volta inserito il serbatoio andiamo a collegare la stufa al nostro impianto elettrico quindi a una presa di casa in questo caso ho preso una prolunga la inseriamo e la stufa si visualizzerà il display che si è acceso per metterla in funzione basterà semplicemente spingere il pulsante la stufa adesso è in funzione sta riscaldando se vogliamo aumentare o diminuire la temperatura basterà agire su queste due frecce che sono qui possiamo bloccare la tastiera con il tasto chiavetta possiamo impostare un orario e decidere di farla partire essendo prevista di un timer giornaliero poi in base al modello di stufa ci saranno diverse modalità di settaggio questa stufa nello specifico consigliata per ambienti fino a 70 metri quadri circa quindi una volta che abbiamo finito di utilizzare la nostra stufa per spengerla è semplice e pratico basterà spingere questo pulsante la stufa in pochi minuti si spengerà e andrà in raffreddamento per la manutenzione è consigliabile portarla in un centro specializzato per la revisione annuale per quanto riguarda invece la manutenzione ordinaria sotto al serbatoio troveremo questo serbatoio all'interno c'è un filtro adesso perché è immerso nel punto nel liquido colerà un po di combustibile non succede nulla questo filtro ogni tanto lo possiamo soffiare con dell'aria compressa o sciacquare attenzione con lo stesso combustibile mai con altri liquidi o peggio ancora acqua perché questo è un filtro speciale se si se viene bagnato viene a contatto con altri liquidi non fa poi più passare il suo combustibile questa è la manutenzione ordinaria un'altra cosa che potete fare è la pulizia dei filtri dell'aria in questo caso lo abbiamo qui dietro nella ventola questo filtro qua basterà anche qui soffiarlo oppure smontare queste viti e soffiarlo dalla parte inversa quindi possiamo riposizionare il serbatoio all'interno per quanto riguarda la revisione annuale noi siamo centro assistenza autorizzato e le facciamo qui in sede quindi potete portarla da noi o addirittura penseremo noi a al ritiro e alla spedizione una volta revisionate per questo video è tutto troverete tutti i link utili in descrizione qui sotto